Amici del resto del mondo della vota con Presti e Lugia, c'erano la vota a Presti 2014! Stiamo facendo una vota per il Presidente! Presti, tanto Presidente, tanto Presidente, tanto Presidente! Mi chiamiamo Daniel Radu! Meravigliosi, meravigliosi, io stasera ho promesso, ho promesso a mio amico Frank, e a una parola di questo, grazie per il territorio! Mi piacciono, mi piacciono gli alberi, io sono quando fanno i mezzi stretti, quando fanno i mezzi stretti eh? Quando si chiamano nessuno nazionale? Brutus! Peni! Sodio! Fermato! E non si rispagliano, segnate! Puglie! Friboriferi! Il Presidente che ammazza, ti dico vuole anche su Frank! Frank è un caro amico che si conosceva in tanti anni, Frank Suda! Il cazzo portò su da Frank! Mi ha fatto dei viaggi in macchina con Moreno! Ci dava anch'io! Solidarietà! Frank alle volte si toglie la gialla, la gialla sono tutto scusate per cazzi suoi! Pensate! Una cosa veramente! Mi vuole bene! Mi vuole bene! Mi devo un sacco di soldi per il Presidente Calvani! Mi devo un sacco di soldi per il Presidente Calvani! È vero! Cosa c'è? Mi ha fatto un sacco di soldi per il Presidente Calvani! Ciavolo! Mi diceva che ora si sono presi di il Presidente Calvani! A te ma non puoi stare a dire che ti devi dei soldi! E' vero! E' vero! No! 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 Non sei che ti devo dire! Non mi devi il posto per cazzo! Ma ha iniziato lui! Mi sembrava la cosa! Ma guarda! Comunque il Pubblico è granissimo! e la paghi, e la paghi, ciccione, ciccione! e questo, questo è Frank Massimo, questo è c'era una volta presto ragazzi secondo voi merita Frank di rimanere qui? facciamo portare la musica? Nona, non, non. Grazie a tutti. Grazie a tutti.